ben tornati e bentornati a questo nuovo pomeriggio con il festival Buona Lettura e in questo momento sono particolarmente emozionato perché sta per arrivare un ospite davvero davvero speciale che non vedo l'ora davvero di di presentarvi lui è Michele Lacusata è nato in Sicilia a Barra Franca un paesino della provincia ennese dopo aver conseguito il diploma lavorato per le Foreste De Magnali fino a quando nel 2009 è stato costretto a ritirarsi a causa dell'ASLA a 12 anni dalla diagnosi oggi è paralizzato si nutre con sonda gastrica e rispita grazie a un ventilatore ma riesce a comunicare grazie all'utilizzo di un comunicatore oculare e ha scritto un romanzo un libro pieno di forza di energia eh di voglia di ehm davvero di eh di far emergere tutta la positività che che c'è in questa straordinaria persona e consigliere nazionale di ASLA appunto il libro che ha scritto è La vita non è un peso eh pubblicato dalla nave di Teseo e oggi insieme a sua moglie Stella Salvaggio ehm ci eh potremo conoscere parlare del suo libro Stella sarà la sua voce lui le sue risposte eh le domande le leggerà eh Stella e quindi diamo in questo momento il benvenuto a Michele e Stella Salve a tutti Ciao Michele ciao Stella non vi vedo in questo momento adesso sì eccoci ciao ciao Michele ciao Stella che piacere avervi avervi qua ciao è un piacere tutto nostro Gianni grazie a voi è davvero un onore come ho raccontato in questo momento oggi tu sarai la voce di Michele che risponderà lui alle domande che e che gli abbiamo fatto ma insomma lui ha scritto le risposte tu oggi gli darai la voce a queste a queste domande eh raccontavo che siete ho raccontato un pochino Michele in in breve so che siete nella provincia di Enna e come ci siamo raccontati in questi giorni io ho la mamma che è nata a Caltanissetta quindi insomma siamo abbiamo le origini che sono quasi vicine di casa vicine vicine di casa sì sì assolutamente eh Stella so che prima di partire volevi voleva leggere una premessa eh Michele Michele sì Michele ha fatto una premessa Nando io volevo ringraziarvi per aver dato la possibilità a Michele di rispondere lui personalmente alle vostre domande perché altrimenti io dico posso sostituire le mani e i piedi di Michele ma la sua mente la sua testa non la posso sostituire quindi grazie di averci dato la possibilità a Michele di rispondere lui personalmente mi sembrava davvero il minimo insomma è una cosa è una cosa a cui tenevamo molto infatti allora prima di rispondere alle domande che vorrei porgermi vorrei ringraziare di vero cuore Gianni per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti di chi soffre a causa della sla ti ringrazio a nome di ai però si presenta stella ci ho perso abbiamo perso stella scusami ti abbiamo ti abbiamo purtroppo persa ma questo è che il microfono io ce l'ho fatto vicino sì esatto ti devo cosa posso fare non si è sempre aspetta magari metto il microfono così perché così si sente benissimo riparti pure perché a un certo punto ti abbiamo persa vai sì allora comincia da capo vai sì sì ma di rispondere alle domande vorrei ringraziare di vero di vero cuore Gianni per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti di chi soffre a causa della sla ti ringrazio a nome di aisla e di tutti i numerosi malati che essa rappresenta grazie per averci coinvolti in questa bella manifestazione e grazie per la tua generazione a tal proposito ricorda tutti coloro che ci stanno seguendo che il 15 per cento dei proventi ricavati dalla vendita dei libri sarà devoluta all'aisla ecco ci tenevo molto a ricambiare l'affetto che tu hai mostrato nei nostri confronti detto questo devo ringraziare la meravigliosa persona che mi consente di essere e di sentirmi vivo con lei che per l'amore che nutre verso di me sacrifica la sua persona il suo tempo e la sua libertà per consentirmi di vivere al meglio questo difficilissimo percorso con lei che mi consente oggi di partecipare ed esprimere la mia vitalità prestandomi la sua voce e suo immenso cuore un umile grazie lo devo alla mia luminosa stella e il mio grande ed eterno amore so che lei ha dedicato a leggere i ringraziamenti che le ho dedicato però ero certo che non avrebbe mai omesso di trasmettere il mio pensiero e allora io voglio dire qualcosa scusami allora non è così non è un sacrificio per me assolutamente ha usato un termine che non va affatto non va usato non c'è nessun sacrificio da parte nostra mia dei ragazzi perché là dove c'è l'amore non c'è peso assolutamente e non non è non mi privo nessuno il tempo che dedico a lui noi ce lo dedichiamo perché adesso io e michele abbiamo messo in pratica e quello che abbiamo promesso all'altare noi abbiamo promesso fedeltà nella malattia e in salute e quindi siamo stati messi alla prova e siamo 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 comportanti di conseguenza quindi non sono privata di niente stare accanto a lui è il minimo c'è un piacere assolutamente fantastico e soprattutto vediamo l'espressione il sorriso di michele mentre tu leggevi insomma immagino che gli abbia fatto piacere però dedicarti quel pensiero è una cosa è una cosa davvero meravigliosa e noi appunto per chi non lo sapesse perché si chiede in che senso abbiamo fatto rispondere domande direttamente a a michele io appunto noi abbiamo mandato queste domande qualche giorno fa e michele effettivamente riesce a scrivere usando questo puntatore elettronico in qualche modo e quindi riesce a esprimere il suo pensiero e tu sei ovviamente la la sua voce e arriviamo proprio a parlare di un attimo certo mi fa piacere quello che stai dicendo perché qualcuno pensa che un malato sla è un non pensante che è messo è un allettato è un vegetale no non è così cioè michele non può muovere gli arti ha un problema una disabilità fisica ma mi ha a mente se posso dire io accanto a me ho un marito che mi guida in tutto e per tutto guida la sua famiglia è un marito è un papà per i miei figli magari ci sono persone che non hanno nessuna disabilità fisica però con la testa non ci sono cioè non con il suo il suo il suo compito di essere papà di essere marito quindi io ringrazio michele e soprattutto perché la plan non ha potuto non ha potuto interrompere la sua personalità il suo modo di essere il suo modo di fare assolutamente questo è davvero un invece tenevamo che appunto fosse fosse lui a rispondere che si sentisse davvero protagonista di questo di questo incontro perché se lo merita e perché io lo faccio rivedere questo libro che che ha scritto che ha scritto michele la vita non è un peso che racconta la sua storia e adesso ne andiamo ne andiamo a parlare come scrivi nel libro quando ti è stato voglio partire da questo punto quando ti è ti è stata diagnosticata la malattia il dottore ti ha consigliato di vivere gli affetti di vivere la tua vita gli affetti l'amore di dimenticarsi il lavoro e poi è andata così sì questo fu il consiglio che mi diede il medico come risposta alla mia richiesta di sapere se potessi continuare a lavorare già una tragedia apprendere di non potere più lavorare e provvedere alle necessità della famiglia immaginate la violente mazzata che ricevemmo io e stella nell'apprendere che si trattava di una malattia ingurabile per dare un'idea di questo preciso momento dico che crollammo su noi stessi come le torsi gemelle con la differenza che nel caso nostro l'attentato fu perpetrato dalla natura che tutto crea e tutto distrugge grazie sia inguaribile inguaribile io dico che incurabile non lo diciamo perché io penso che la cura per questa malattia sia l'amore sia l'affetto e la vicinanza della famiglia parenti amici e quindi hai detto hai detto la parola chiave che quella che mi viene in mente a me nel senso che qual è l'energia che ci porta poi riuscire davvero a vivere come hai fatto tu Michele e anche quella parte senza lasciarsi sconfortare e l'amore la parola chiave è quella la vera forza o serve ancora qualcos'altro e allora Michele dice qual è l'energia? bella domanda un principio della fisica dice che l'energia non si crea e non si distrugge ma si trasforma da un tipo all'altro quindi la nostra reazione positiva è stato il frutto di una metabolizzazione ragionata razionalmente del dolore che ci affliggeva il radicale cambiamento dello stile di vita ci portò a elaborare la filosofia del minchione che non è altro che la nostra ricetta per la felicità consiste semplicemente nel godere di di ciò che abbiamo e non disperare per ciò che vorremmo che fosse e non è è tutta una questione di sapersi e ancora di più volersi con pazienza trasformare in un uomo in un uomo nuovo certamente alla base di tutto c'è l'amore ricendevole e gratuito senza amore l'uomo muore io vivo di amore io vivo per amore lo scopo della nostra vita cioè la felicità non è mutato solamente ci arriviamo a una nuova via un po più in verbia mi piace dire che viviamo serenamente disperati e allora posso dire una cosina io assolutamente allora non è una passeggiata la sla e quando michele dice viviamo serenamente disperati tanti amici di percorso che ci stanno ascoltando capiranno cosa michele vuole dire con un serenamente disperati malattia ci pone molte volte di fronte ad avere tanta paura di fronte tanti ostacoli tante difficoltà però se ci siamo noi poi che dobbiamo decidere se vivere diciamo io e michele l'inverno è il paradiso oppure tu hai pensato questo cioè se vivere l'inverno è il paradiso l'abbiamo con michele ragionato a tavolino cosa dobbiamo fare se ci piangiamo addosso e la sla aiutiamo la la a fare il suo percorso finisce che vivremo l'inverno abbiamo deciso di vivere il paradiso per amore dei nostri dei ragazzi poi ma di vivere serenamente questa disperazione ecco guardate davvero un esempio di forza e questo e sono davvero felice di avervi qua perché insomma avere il vostro esempio è davvero di aiuto per tutti noi anche che non viviamo delle delle esperienze simili ma sapere che ci sono persone forti come voi è davvero è davvero rincuoranti c'è una parte bellissima del tuo libro michele che commuove molto in cui racconti che nel tuo viaggio in quel periodo il primo periodo hai fatto un viaggio a mirabilandia con i tuoi figli e sapevi che era una delle ultime volte che potevi correre con i tuoi figli quali sono i ricordi più belli di quel periodo così difficile quei giorni a ravenna furono una corza di energia positiva tale che ancora oggi mi alimenta mi basta guardare le pote dove possiamo vestiti da pelle rossa o cowboy per gioire ancora noi ci per non ci perdemmo neanche una giostra neanche quelle più pericolose oggi sono diventato un ruminante di ricordi e sì quella fu una vacanza che ricorderemo per tutta la vita perché l'abbiamo fatto un anno dopo la viaggi e i ragazzi ci avevano detto allora avevano il grande 16 anni 13 il secondo e 9 la piccola ci avevano chiesto da tempo di andare a fare questa vacanza però per mille motivi lavorativi e una di ci manda sempre agli indomani e allora la bestia diciamo la malattia di questo possiamo possiamo dire che è stata positiva che abbiamo cercato di abbiamo capito che non avevamo più tanto tempo ecco quindi abbiamo subito accelerato e detto ok va bene partiamo abbiamo detto ai ragazzi ed è stata una bella una bella svolta insomma siete riusciti almeno a vivere quel periodo come dice michele creando ricordi da poterli far ruminare adesso insomma è una cosa è stata una cosa importante nel tuo libro è bellissimo anche il pezzo ricordiamo ricordiamo il libro la vita non è un peso e c'è il sottotitolo che dice altrimenti non riusciresti a sollevarlo e c'è un bellissimo pezzo in cui insegna a te a fargli la barba no e insegna davvero questo fa vedere queste semplici cose che che vi hanno davvero uniti ma tra i tanti dei lati negativi della malattia ho pensato ce n'è ce n'è anche un uno positivo in qualche modo che alla sla non perde la sua figura di individuo non è più solo un individuo diventa quanto mai parte di una squadra tua moglie michele quindi te stella i tuoi figli diventano veramente la tua forza quindi la domanda che aveva fatto michele quanto sono stati fondamentali e cosa è significato per entrambi intraprendere questo nuovo percorso di vita e a proposito di squadra nel tuo libro parli anche questa strana inversione che c'è a un certo punto tra padre e figlio in casi così traumatici la famiglia risponde o unendosi in modo compatto tanto da diventare una squadra che agisce in armonia oppure la famiglia si sgretola rovinosamente io in questo senso mi sento fortunato per essere circondato da una famiglia che mi ama e mi accudisce come un neonato ultra 50enne sono padre dei miei figli e figlio dei miei figli loro mi coccolano mi mettono a letto mi alzano mi portano a spazio ma quello che apprezzo molto è il fatto che vengono da me per un consiglio loro dicono che non mi vedono come malato ed io sono felice quanto mi iscridano perché io gli chiedo di fare due o tre cose contemporaneamente questo trattamento alla pari mi fa dimenticare di essere una mummia la barba fu una delle prime cose che mia moglie volle imparare ma lei ha sempre anticipato le fasi degenerative quando cominciai ad avere difficoltà a camminare e subito fece sparire i tappeti cominciò a imboccarmi quando non riusciva a utilizzare le posate di plastica perché troppo pesanti oppure facevamo la doccia insieme stella mi dice che siamo talmente saldati che non so più dove finisco io e dove cominci tu siamo uno l'essenza dell'altro se le mie figli una volta mi distero noi saremo le tue braccia e le tue gambe noi faremo tutto quello che ci sarà da fare tu di stare terreno e di al contrario di ricoletta sereno lo sono davvero mi chiedo spesso ma cosa ho fatto per meritare questa famiglia lui niente siamo noi siamo noi che noi che abbiamo bisogno di michele cioè alla fine lui veramente sta facendo tanti complimenti a noi però alla fine e io no io dico sempre che non c'è confine tra me e lui perché adesso pensiamo quasi alla stessa cosa non so più quello che piace a me a quello che piace a lui perché ci piace ci piace questo plurale assolutamente ma quest'ultima mi dicevi scusa stella no che mi ha fatto sorridere l'ultima battuta che ha fatto su stai sereno a differenza di Enrico Letta che è una battuta molto esemplificativa poi di quello che è anche il suo libro perché Michele non ha assolutamente perso la sua ironia la sua energia e traspare dalle parole che scrive C'è una parte bellissima che mi viene in mente che è quella che fai il maraviglioso discorso dello specchio nel quale dici che la reazione degli altri dipende esclusivamente da quella che fai tu è molto carino il discorso che fai con lo specchio riflettevo insomma tu sei riuscito a buttarla sull'ironia sull'energia positiva una grandissima cosa e appunto il modo migliore per poter far reagire gli altri anche nello stesso modo allora un proverbio recita che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare se uno frequenta gente pessimista diventerà pure lui pessimista se frequenta gente allegra, si allegro ironizzare e prendersi in giro assi dentro di se stessi è una medicina che cura l'anima se io piangessi dalla mattina alla sera tutti sarebbero tristi e nessuno degli amici verrebbe a trovarmi gente allegra a Dio le aiuta mio figlio Calogero ogni tanto porta a casa una bottiglia di prosecco io gli chiedo cosa festeggiamo papà festeggiamo la vita e il mio cuore diventa una mongolfiera noi viviamo adesso per l'essenziale ogni momento è motivo di festeggiare il festeggiamento ogni minuto immagino che appunto questo senso positivo di approcciarsi alla vita aiuti tantissimo le altre persone a rapportarsi con voi che è una cosa molto importante una cosa che però mi viene da chiederti è quali sono invece i comportamenti che vorresti che le persone evitassero quando si rapportano con te cosa non dovremmo fare noi quando ci rapportiamo con te Michele? io non evito nessuno ma eviterei volentieri quelle persone che vengono con la stessa allegria con cui si va un funeral eviterei chi viene da me e mi racconta i suoi malanni io non parlo mai di malattia io non so nemmeno che farmaci prendo ogni tanto vedo stella che mi inietta qualcosa ma io continuo a navigare sul web all'aslade di quel tempo strettamente necessario io lo vedo come tempo sottratto alla vita dice il vero una volta avuto lui un problema ma diciamo una crisi respiratoria stava male aveva la saturazione aveva la saturazione bassissima aveva la saturazione bassissima io ero preoccupata a cercare di aspirarlo di fare e lui conversava tranquillamente con un amico ah sì vero addirittura una volta mentre chiamavo il 118 perché non riuscivo a far salire la saturazione lui stava conversando con questo amico che poi lui mi diceva ma come proprio allora io e Michele stavamo parlando e va bene era un problema mio quello non era un problema di Michele adesso poi veniamo al discorso su come parla con gli amici e come si rapporta con tutto il mondo nel tuo libro però volevo un interessante un esempio molto cazzante per una distinzione tra la vita di un fiume e di un lago un lago molto pacifico, fermo il fiume invece è il ruento che scorre e tutto quanto io oggi ti vedo forse più come un mare un maestoso che per quanto sembri fermo in realtà è sempre in movimento perché immagino che le onde dei tuoi pensieri non siano mai ferme quindi Michele quali sono i tuoi sogni oggi? se per mare intendi un'enorme massa d'acqua che fluttua interiormente e mi scuote l'animo sono d'accordo ma io mi sento più un fiume che scorre sotto terra invisibile all'occhio umano che soltanto uno che abbia domande con il suo strumento può percepire il mio sogno è riuscire a diventare nonno e sbaggiucchiarmi i miei dolci nipotini spesso me li immagino straiati sopra le mie coperte che si arrambicano per acciuppare il mio naso spero che non incentiva i ragazzi a fare questi nipotini Michele con questa risposta beh è un sogno bellissimo immagino è un sogno bellissimo Stella ma quanti anni hanno i tuoi vostri figli? adesso hanno 29 il grande 26 il secondo e 22 la piccola sono grandi adesso sono grandi sono grandi Michele invece una curiosità so che in questi anni hai avuto un modo di incontrare Papa Francesco che ricordo è stato? che emozione ti porti di quella esperienza? allora io sono tornato sono ritornato a casa dopo due mesi di leggenza in ospedale per imbiandarmi la PEC e la tracheotomia per la respirazione proprio il 13 marzo del 2013 il giorno della sua elezione a Papa incontrarlo è stata un'emozione unica gli ho detto che è la nostra speranza di cambiamento lo ritengo un profeta che grida dal deserto lui è la mia guida a spalle e anche politica rispetto alla politica italiana impotente oltre che reticente di fronte allo strapotere della finanza disumana e disumanizzante Papa Francesco è forse l'unico che denuncia questo regime invisibile e che crea povertà e disuguaglianze del Papa apprezzo molto sforzo per avviare un dialogo interreligioso manifestando nei fatti che ha già iniziato a lavorare per realizzare quel neumanesimo tanto sbandierato immagino che appunto sia un ricordo davvero indelebile Michele prima di continuare con le domande però ti voglio farlo un attimo perché a tutti gli scrittori che stanno partecipando a questo festival c'è la compagnia Salta Passi che era nell'organizzazione di questo festival ha messo a disposizione degli attori che leggono un pezzo del tuo libro per te ne abbiamo scelti due un pezzo del libro è una delle poesie che hai scritto adesso vorrei farti leggere da questa da questa attrice un pezzo del tuo libro invece alla fine poi leggeremo una delle tue bellissime poesie quindi diamo il benvenuto a Cristina Villano della compagnia Salta Passi benvenuta Cristina grazie mille e Michele ascoltiamo allora un pezzo del tuo bellissimo libro ogni foto riporta la mente a quei giorni vissuti intensamente con gioia e felicità da grandi e piccini guardo quegli scatti come se mi guardassi allo specchio quello stesso specchio che mi consiglio bene sul fatto che avrei reso felice me stesso facendo felici gli altri vivere la malattia chiudendosi a riccio su se stessi è dannoso per sé e per chi ti vuole bene inoltre essere ancorati al tempo stesso al desiderio della guarigione e a quello del miracolo porta di conseguenza la totale rovina la speranza non dobbiamo limitarci a coltivarla passimamente dobbiamo costruirla noi stessi giorno per giorno un pezzettino alla volta il miracolo dobbiamo compierlo noi sbalordendo noi stessi e chi ci circonda sapendo che domani starò peggio di oggi sarebbe stupido non approfittarne per fare quello che posso al momento e tormentarsi magari oggi potessi camminare zoppicante come allora rispetto ad ora stavo benissimo e penso domani quando rimpiangerò la mia condizione odierna e ancora dopo se non avessi realizzato seppur con fatica tutte le cose che ho fatto e sono state tante mi mangerei le mani ammesso che ci riuscissi i bei ricordi aiutano a vivere le occasioni perse provocano rimorso rabbia e dolore impariamo dalla natura animale mi dico hai mai visto un allucerto la piangere e disperarsi per aver perso la coda oppure struggersi dinanzi a quella coda che traballa di vita come se volesse ricongiungerci nuovamente al tronco mai la lucertola prosegue il suo cammino verso il futuro senza tentenamenti oppure hai mai sentito un albero lamentarsi per essere rimasto senza foglie solo l'uomo si lamenta contro l'evoluzione naturale del proprio corpo forse perché sente di essere una natura a sé superiore alla natura stessa hai mai sentito una formica lamentarsi dell'eccessivo peso che porta sulle spalle mai anzi sembra intestardirsi dinanzi alla difficoltà tanto dice tanto fa fino a quando con aria fiera si incammina sulla via del ritorno ho la sensazione che le formiche camminino fischiettando scambiandosi il buongiorno tra di loro impariamo dalle minuscole stagge formiche riempiamo le nostre tane con grandi scorti di cibo così facendo renderemo meno rigido l'inverno del nostro animo grazie mille grazie mille Cristina assolutamente è uno di quei pezzi del libro di Michele che vale davvero la pena la pena di leggere di conoscere grazie mille per averlo interpretato so che è anche un'altra poesia aspettiamo solamente più tardi per leggere alla fine adesso c'è stato un piccolo problema tecnico tra l'altro con Michele stiamo aspettando che la Dina adesso si ricollegheranno e intanto ti ringrazio Cristina grazie per il tuo supporto a dopo grazie grazie a tutti voi che ci state seguendo siete davvero tantissimi ma è appunto un un incontro che vale davvero la pena mi stava emozionando sono adesso tra poco ricominceremo anche perché abbiamo ancora tante domande da fare a Michele Stella e quindi aspettiamo semplicemente che si riconnettano così possiamo ricominciare la chiacchierata con con loro adesso li chiamiamo li telefoniamo ricordo appunto che Michele è lo scrittore l'autore della vita non è un pezzo pubblicato pubblicato da la nave di Teseo lui è uno scrittore davvero speciale perché nel senso nonostante la sua malattia conserva una forza una positività che appunto è davvero invidiabile e così come ce l'ha anche la moglie perché appunto poi la forza bisogna come dicevamo prima si diventa quasi una squadra e sono tutti loro insieme davvero a fare a fare questo miracolo uno dei grandi ospiti di questo festival è stato sicuramente Isla che abbiamo che ringraziamo ringraziamo davvero Isla per il supporto che ci ha dato in particolare ringraziamo Silvia Anceschi perché ci è stata vicina davvero in tutto questo percorso con mille consigli tantissima energia e abbiamo voluto coinvolgere Isla perché ci piaceva in questo durante questo festival riuscire a dare qualcosa in più aggiungere qualcosa per cui ne valesse ancora di più la pena ricordiamo che sul sito www.buonalettura.net c'è la possibilità di acquistare i libri di autori presenti al festival il 15% verrà devoluto intramente ad Isla ma c'è anche il banner per scoprire come devolvere loro il 5 per 1000 che è una cosa importantissima poi parleremo con Michele di Isla ma ecco vedo che si stanno si stanno ricollegando eccoci ciao Stella ciao Michele eravate un attimino andati fuori via ci siamo persi ci siamo persi c'era l'attrice che ha letto un bellissimo un bellissimo passaggio del libro di Michele e più tardi ti leggerà anche una poesia come scrive Fabrizio Gentile un emozionante toccante passaggio come tutto il libro tutto il libro e tu sei appunto dai questo messaggio di speranza in fondo perché nonostante tutto c'è questa cosa che continua e i tuoi lettori però fai fare anche l'esperimento a un certo punto per far capire perché cerchi davvero di far capire quella tua condizione di stare fermi nel letto e dici provate a stare per un'ora fermi nel vostro letto senza muovervi completamente cercando di capire davvero cosa cosa si può si può provare perché nel tuo libro sei completamente sincero metti ovviamente non fai vedere solo non sei ipocrita non fai vedere le cose solamente positivi fai vedere anche i lati negativi come possono essere state le tensioni che ovviamente questo problema può aver creato con i tuoi familiari però dici che ti ha permesso di imparare tante cose che penso che sia una cosa bellissima e che ti ha permesso di sapere cose adesso che avresti voluto mettere in pratica anni prima dici che speri che il tuo libro possa lasciare qualcosa a qualcuno ecco qual è l'insegnamento più grande che ti ha lasciato che hai oggi Michele dice non voglio rispondere alla parte di domanda che parla di quanto mi arrabbio con i miei cari quelle persone di cui solamente baggiare il terreno su cui cammino prima mi arrabbio e poi sto malissimo e mi vergogno di me stesso io sono cosciente del fatto che la mia vita senza le loro premure sarebbe tutt'altra cosa infatti penso sempre a chi è solo nella fondazione della FLA penso che non ha la fortuna che ho io penso che sia la solitudine la prima causa del volere morire e in questo senso è fondamentale il fatto delle istituzioni nel fornire assistenza HD4 ma la realtà assistenziale è ben altro la legge sul fine vita dovrebbe iniziare fornendo adeguata assistenza a chi vuole vivere molte persone si lasciano morire per non essere di peso alla famiglia queste morti a causa dell'abbandono da parte delle istituzioni preposte sono per me dei veri suicidi di Stato cosa ho imbarato dalla malattia ho imbarato una sola grande prima della malattia ero felice e non lo sapevo cosa darei oggi per poter mangiare un bel piatto di pasta alla palermitana abbracciare i miei cari o fare una semplice doccia queste cose le diamo per scondate non le apprezziamo nel giusto valore che hanno bere un caffè al bar chiacchierando con gli amici è un dono di inestimabile valore il consiglio che mi dare è non rimandata domani la felicità che potete avere oggi aggiungo vivete ravigliando e graziando Dio ogni mattina appena aprite gli occhi per esservi svegliati vivi e vivete ogni istante con il cuore pieno di musica e danzate la vita portando gioia a coloro che vi guardano grazie Michele un attimino voglio dire una cosa allora Michele conduce una vita tra tutte e normale come tutti gli altri quindi quando ci sono questi cambi di umore e questi litigi che magari la malattia porta ma noi litighiamo e ci mandiamo a quel paese come tutte le coppie normali ma poi per riabbracciarci per far pace per bagiarsi quindi voglio dire lui non deve pensare che sia qualcosa di negativo questo questa vita non è di tutti i giorni niente di più dice una frase bellissima la sua risposta è che ha detto non rimandate a domani la felicità avete fatto benissimo non rimandiamo a domani la felicità mi sembra l'insegnamento più bello che può arrivare da questo festival da questi tre giorni di festival insomma ce lo appuntiamo assolutamente tutti tutti quanti stiamo vivendo anche un periodo molto particolare in quest'ultimo anno il covid la pandemia ci ha obbligato un po' tutti quanti a stare bloccati e isolati nelle nostre case spesso addirittura in lockdown e penso che già per noi sia stata una condizione difficile per te Michele per voi come ha cambiato ancora la vostra vita tra l'altro a proposito del libro doveva uscire so che è uscito subito dopo il lockdown però come è stato come ha influito il covid sulla vostra situazione tutto è stato davvero che Michele non ha potuto presentare il libro così come sicuramente gli avrebbe fatto piacere presentare l'uscita del suo libro però questa penso che può essere una cosa rimandata penso che appena ci sarà la possibilità si farà qualche evento e quindi il libro di Michele merita di essere presentato assolutamente sì assolutamente sì ah Michele dice che per lui la presentazione del suo libro sta avvenendo oggi grazie a te grazie a voi sta avvenendo la presentazione del suo libro questo a causa covid dimmi dimmi Gianni no appunto grazie a voi assolutamente siamo onorati di dare il battente il covid ha stravolto un po' le nostre abitudini era piena di amici noi non avevamo appuntamenti non c'erano orari gli amici nostri a casa nostra sapevano che potevano venire in qualsiasi momento della giornata senza bisogno di avvisare suonavano il citofone e salivano se ci trovavano che facevamo qualcosina potevano soltanto aiutarci a fare delle cose quindi non era posso venire posso devo chiamarti assolutamente no e questo Michele ne soffre un po' di questa mancanza della casa piena di amici e comunque noi a novembre abbiamo avuto tutti il covid compreso Michele quindi conosciamo il covid in faccia la sua brutalità sì a novembre anche io Michele l'ho avuto novembre quindi siamo però wow Michele dice no wow nel senso è proprio un lottatore nel senso anche il covid gli è passato senza battere i cigli lui dice sono felice di essere guarito dal covid perché fino adesso lui le sue malattie sono tutti inguaribili quindi è felice di avere di avere lottato contro il covid ed essere guarito grande e comunque sai nel covid l'abbiamo preso tutta la famiglia tutti i ragazzi tutti a casa nostra e quindi ci portavano parenti e amici ci portavano le medicine mangiare dietro la porta e Gianni se posso ringraziare l'unica famiglia allargata che mi sono trovata è stata la famiglia di Aisla adesso adesso ne parliamo ne parliamo bene ne parliamo dopo assolutamente perché merita proprio un capitolo tutto per sé Aisla perché è davvero è una grande famiglia e merita assolutamente ti faccio però un paio di domande Michele innanzitutto il tuo rapporto con i social so che il tuo mondo di comunicare di comunicare con con il resto del mondo li usi tanto come che valore hanno per te valore immenso Gianni Michele si sente vivo grazie anche al socio e a questo comunicatore benedetto che ha lui ha più paura se va via la DSL la connessione che di una crisi respiratoria credimi dice ho più paura che va via la DSL e non di morire per farci capire quanto ci tiene lui con i social viaggia viaggia tutto il mondo dico io a chilometri a chilometro zero a millimetri zero viaggia tutto il mondo ha scritto il libro con il comunicatore dialoga whatsapp facebook email lui fa di tutto e addirittura ti posso dire che il 19 novembre il giorno del suo compleanno novembre scorso eravamo tutti a causa covid chiusi a casa e lui mi ha detto la mattina stella non preparare da mangiare perché ci penso io mi è sembrata già una battuta questa mi è sembrata una battuta dico vabbè io non ho preparato perché non devo stavo male non si riusciva a preparare ebbene alle ore 13 hanno suonato alla porta e ci hanno portato lui ha condattato un ristorante un ristorante con il computer ci ha notato il menù in completo dall'antipasto al dolce vino e tutto quello che poteva essere un piacere fa tutto con i saldi se l'altra volta mi è suonato il corriere che mi ha portato un orologio da cucina perché io non avevo avuto tempo per comprarlo e allora lui l'ha comprato su internet mi ha bussato il corriere portandomi l'orologio da cucina fa tutto mi paga pure le bollette mi paga pure le bollette dell'Enel del Gatti e mi dà una mano veramente grande grande Michele e poi leggi tanto guardi tante serie tv quali sono le tue preferite allora aspetta che io mi addormento la sera aspetta che ti leggo quello che ha scritto lui in tutti questi anni trascorsi a letto tra carrozzina tra letto e carrozzina ho dedicato tanto tempo a me stesso ho letto di tutto e di più ho imparato a scrivere e mi diletto nel farlo ascoltare musica è una medicina oltre un viaggere scelgo la musica e imbatto il mio umore guardo poco televisione di intrattenimento amo i film mi guardo bene dal cominciare una serie tv perché creano la stessa dipendenza delle patatine ho visto Ozark ho interrotto la visione della serie suizie perché era diventata ripetitiva adesso mi sono affossato guardando la serie Peaky Blinders cerchi di non anarmi ma non si annoia e non ci fa annoiate neppure a noi fantastico ascolta un'altra cosa che volevo chiederti prima di far leggere l'ultima poesia del tuo libro e poi parlare invece di Isla è una curiosità sul tuo paesino insomma i pregi e i limiti di vivere in un paesino come può essere Barra Franca come ce ne possono essere tantissimi in Italia immagino che da una parte all'inizio possa non essere stato facile sia per magari una non facile accessibilità a luoghi specializzati sia perché magari dover ammettere la situazione se all'inizio può creare un imbarazzo ma immagino che negli anni si sono stretti attorno a te diventando davvero una forza tu voglio? stella? sì sì no non ti ho sentito ultimamente si senti adesso? sì adesso ti sento benissimo ti chiedevo per quanto riguarda Barra Franca sui pregi e i limiti di avere ok ho capito la domanda ok va bene allora Michele ti dice preferisco la vita che scorre lentamente in un paesino rispetto alla frenesia delle grandi città in paese ci conosciamo tutti e c'è un rapporto più diretto certo non sempre abbiamo quello che ci e quindi bisogna spostarsi ma anche gli spostamenti sono più scorrevoli inorridisco al pensiero di rimanere quotidianamente imbossigliato nel traffico per andare al lavoro in paese ti puoi muovere a piedi e gustarti il percorso adoro la mia comunità dicevo da parte di tutte le persone prima della pandemia a casa mia era un porto di mare quando ci trasferiamo in campagna durante l'estate si organizzano pure i concerti musicali grazie agli amici musicisti quando esco è bellissimo per me vedere macchine che accostano per salutarmi all'inizio per un po' di tempo abbiamo evitato di diffondere la notizia della mia malattia ma non per vergogna o così ma per salvare i genitori i nostri figli da un colore così acuto quando i segni della SLA iniziarono ad evidenziarsi avevamo trovato anche le parole giuste quel giorno fu una liberazione per noi portare il gridare dal mondo intero che c'era una malattia e dovevamo dovevamo cambiare abitudine ma abbiamo non dato tanto aspetto immagino essere se stessi immagino sia davvero davvero una grande libertà Michele Stella allora prima di parlare di Isla che è una domanda importante su quella che vi voglio fare e volevo farvi sentire ancora la poesia scritta da Michele e letta dall'attrice della compagnia Saltapasti e ridiamo allora il benvenuto a Cristina la mente la mente è il tutto la mente è il niente essa è libertà essa è prigione pianto è pure gioia essa è movimento è l'io è la ragione essa è genio è follia è anima sapere è ignoranza insieme essa è comprensione intolleranza superbia umiliazione è pace guerra odio e anche amore essa è sostanza coerenza magia e illusione essa è l'universo ed esattamente il suo contrario la mente è una tavolosa piena di colori con cui ogni uomo dipinge la sua tela grazie mille Cristina insomma Michele spero che ti abbia fatto piacere complimenti grazie Cristina a presto buona lettura anche a te Michele spero che ti abbia fatto piacere davvero perché insomma ci penevo a farti sentire appunto anche a te un pezzo una delle tue bellissime poesie lette da da una delle attrici della compagnia salta che ci ha aiutato a organizzare tutto tutto questo Michele però stavamo parlando Stella stavamo parlando di una famiglia allargata di una famiglia molto importante come come quella di Isla insomma quanto è importante per voi molto il motto di Isla è persone che aiutano persone e noi questo è Isla sono veramente un insieme di tante persone che ci adoperiamo per aiutare altre persone Isla è il 1970 come associazione è la sede nazionale a Milano e siamo presenti in tutte le regioni d'Italia e nel 2003 Isla ha aperto un insieme da scopo che ci sono tanti medici esperti della malattia e tutti i malati familiari degli ammalati possono contattare per avere delle risposte ad ogni problema che hanno noi durante il covid abbiamo davvero avuto bisogno perché nel nostro paese il medico di base non veniva a trovarci mentre avevamo avuto mentre avevamo il covid nessun infermiere nessun medico nessuno è venuto a casa nostra e io ho contattato un'amica di Isla consigliere nazionale anche lei Francesca che perché lei aveva avuto il covid e l'ho contattata lei ha chiamato subito grazia grazia che è il direttore generale mi ha chiamato e si sono messi in moto subito il nostro caro presidente Massimo Mauro tutti ci hanno contattato la dottorezza Cattaneo dicendomi signora stia tranquilla che suo marito sarà curato a casa per me questo è stato un enorme piacere perché avevamo il terrore Michele aveva il terrore di dover andare in ospedale perché come tu puoi immaginare il malato sulla casa sua con tutti i suoi cuscini i suoi braccia le gambe il suo modo di comunicare l'ospedale non è facile quindi aveva il terrore di andare in ospedale la dottoressa Cattaneo mi disse signora stia tranquilla che cureremo suo marito a casa questa cosa mi ha ringuarato ma poi si è presa cura di noi di tutta la famiglia insomma Michele tra l'altro è parte attiva proprio di Isla insomma di poco fa c'è stato un messaggio usato che siete una grande famiglia davvero unita e so che Michele poi è davvero parte attiva di questa grande famiglia sì è consigliere nazionale Michele è presidente è referente nella nella nostra provincia è consigliere nazionale del direttivo sì dopo sai dopo subito dopo la diagnosi abbiamo deciso di fare parte di questa famiglia e abbiamo cercato di fare rete qua in Sicilia soprattutto si sono aperte delle sedi vicino a noi a Calcanissetta si è aperta la sede subito dopo quella di Enna sì cerchiamo di stare vicino soprattutto i territori gli ammalati e le loro famiglie sai cerchiamo di stare vicino alle famiglie agli ammalati e alle famiglie che immagino che sia una cosa una cosa importantissima Stella adesso tra pochi minuti dovremo salutarci vorremmo far vedere tra poco il bellissimo spot che ha che ha realizzato Isla insieme a degli studenti dello IED per pubblicizzare appunto l'importanza che ha Isla per voi sia per i malati ma anche per le famiglie per tutti quanti perché penso che l'obiettivo sia quello poi di vivere una vita come quella di tutti gli altri e avere qualcuno che ci possa supportare penso che sia qualcosa di davvero straordinariamente importante perché immagino che Michele ha la straordinaria fortuna di avere una persona come te accanto Stella ma immagino che ci siano anche persone purtroppo magari da sole o purtroppo che non hanno persone accanto e poter sapere di avere qualcuno che si prende cura di loro immagino che sia una cosa straordinaria quindi vi ricordo sul sito di buonalettura.net trovate tutte le indicazioni per poter devolvere anche i 5.000 ad Isla quindi mi raccomando andate a seguirle Michele Stella io vi ringrazio di cuore tra l'altro a proposito di Isla so che sulla pagina facebook di Isla in questo momento che hanno scritto tantissimi commenti che non siamo riusciti in questo di affetto che non siamo riusciti in questa ora a mandare tutti quanti in onda quindi poi andatevi a guardare perché lui che è bravissimo con i social sicuramente gli farà piacere io Michele Stella vi voglio davvero ringraziare di cuore per questa meravigliosa ora passata insieme meravigliosa ora scorsa insieme speriamo di vederci al più presto magari anche dal vivo appena passerà tutta questa pandemia sicuramente sicuramente sarà un piacere un vero piacere un immenso piacere Gianni assolutamente io faccio rivedere ancora il libro di Michele e vi saluto facendo grazie grazie a tutti Michele ti ringrazio immensamente di cuore grazie grazie a voi e vi lasciamo con lo spot quello lungo non solo quello di 30 secondi che sta passando in questi giorni di AISA fatto dagli studenti ciao Michele ciao Stella ciao Gianni ciao a tutti ehi quando devo mettere il sale per evitare che ti dimentichi metti il sale ora forfalle o spaghetti prendi gli spaghetti si accompagnano meglio alla salsa di pomodoro da grande diventerò una chef famosa e aprirò un ristorante tutto mio davvero? certo papà ben detto Anna non smettere mai di coltivare i tuoi sogni restituiamo i figli dei malati di SLA il diritto di credere nei sogni non smettere mai